Sembra che il settore bancario sia un castello di carta. Banca dopo banca i nodi stanno venendo al pettine. Anche Warren Buffett ha venduto massivamente i propri titoli bancari. Sei veramente sicuro che convenga investire in azioni di titoli bancari? Hai idea di quello che sta succedendo? Approfondiamo insieme e se vuoi sapere la mia onesta opinione sull'investire o meno in banco e se sei curioso rimane fino alla fine perché di carne al fuoco ce n'è tanta, veramente parecchia e parleremo sia di Stati Uniti che di Italia. Bentornato, nei recenti mesi il settore bancario, in particolare quello americano, ha fronteggiato dei fallimenti che lasciavano presagire a un nuovo clima come quello della grande crisi del 2008. Anche il buon vecchio Warren Buffett, giovanotto, di recente ha scaricato tante quote del settore nello scorso trimestre. Infatti il suo conglomerato Berkshire Hathaway ha venduto 1.4 miliardi di dollari delle sue partecipazioni rimanenti nella custodial bank Bank of New York Mellon col ticker BK e nell'istituto di credito regionale del Minneapolis US Bank Corp col ticker USB, in pratica acquitando entrambe le posizioni al 100%. Tra l'altro non è un processo iniziato da poco, visto che il buon giovanotto ha cominciato questo percorso in tempi molto meno sospetti, avendo cominciato a scaricare la maggior parte delle proprie quote fra il 2020 e il 2022, giusto pochi mesi prima che la catastrofe sulle banche si verificasse. Buffett l'ho anche chiarito all'assemblea annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway all'inizio di questo mese, che è ancora molto cauto nel detenere molti titoli bancari. Un'eccezione che ha citato e che comunque tutti un po' conosciamo è la Bank of America, che rimane una delle maggiori partecipazioni di Berkshire Hathaway. Nel primo trimestre Berkshire ha anzi aumentato le sue partecipazioni di Bank of America del 2%, nonostante il valore della sua posizione totale del titolo sia sceso di 4 miliardi durante il trimestre. Buffett inoltre aveva già finito di scaricare la sua storica posizione in Wells Fargo, proprio nel 2022 banca che se la cava pessimamente, considerando che Wells Fargo ha accettato di pagare un miliardo di dollari, e non sono noccioline, per risolvere una causa che l'accusa di aver fraudato gli azionisti sui suoi progressi nel riprendersi da una serie di enormi scandali sul trattamento dei propri clienti. Wells Fargo, che trada col ticker WFC, opera dal 2018 sotto gli assoluti ordini del consenso della Federal Reserve e di altri due regolatori finanziari che richiedono che migliori la propria governance e la propria supervisione. Wells Fargo, la quarta più grande banca statunitense, è anche soggetta a un asset cap che è da parte della Fed, e che questo può ostacolare la sua capacità di competere con i rivali più grandi come JP Morgan Chase, Bank of America Corp, Citigroup e tante tante altre. Gli azionisti hanno accusato Wells Fargo di aver sopravvalutato il modo in cui stava rispettando quegli ordini e che il valore di mercato della banca è diminuito di oltre 54 miliardi di dollari in due anni, fino al marzo 2020, quando le carenze sono diventate note. Inoltre, dal 2016 ha accantonato o ha pagato diversi miliardi di dollari per risolvere indagini normative e contenziosi riguardanti le sue pratiche commerciali. Questi includevano l'apertura di circa 3,5 milioni di conti correnti senza il permesso dei propri clienti e la debito di centinaia di migliaia di mutuotari di assicurazioni auto di cui non avevano bisogno e neanche richiesta. Insomma, un bijou. Poi hanno tutti in nota la recente catastrofe di SBB, Silicon Valley Bank. Insomma, sembra una mattanza nel settore finanziario e le banche portano due rischi allo stesso tempo. Oltre a poter fallire con i soldi derivanti dai nostri investimenti, quelli in cui mettiamo nelle loro azioni, hanno un enorme impatto sociale avendo i soldi numerosi correntisti di aziende che hanno i propri fondi depositati per gestire le normali spese giornaliere. Ma tutte le banche frodano così? Volete veramente investirci? Vale veramente la pena investirci? Ci sono politiche in corso oppure, anche se ci fossero, potrebbero essere solo fumo negli occhi. Partiamo dagli Stati Uniti. I principali regolatori bancari statunitensi hanno in programma di dire ai registratori che il governo sarà aperto a future fusioni bancarie, ma si sono impegnati anche a stabilire regole molto più severe dopo le recenti turbulenze. Io ci credo poco. I funzionari del Comitato per i Servizi Finanziari della Camera statunitense sembrano risoluti sulla necessità di regole e supervisioni bancarie molto più severe a seguito di diversi fallimenti di altro profilo, pur mantenendo il settore sano. A quanto si vocifera, si parla di regolamenti per tenere meglio conto dei depositi non assicurati di una banca e anche l'applicazione di un maggiore controllo alla remunerazione degli incentivi dei propri dirigenti, soprattutto se ci hanno istanze in cui le banche sono già molto in difficoltà. Regolamentazioni che dovrebbero essere maggiormente necessarie sull'ossidio delle regional banks, quelle con oltre 100 miliardi di attività che potrebbero innescare una reazione a catena nel caso fallissero. Sembrano parole bellissime, ma effettivamente queste regolamentazioni, queste misure di intervento, sarebbero dovute arrivare un attimino prima, a parere mio, o no? Che ne pensi? Anche perché seppure banche come SBB, Silicon Valley Bank siano state gestite male, è anche il regolatore che deve avere la capacità di alzare la manina e intervenire prima che il patatrack accada. Le autorità di regolamentazione sostengono che l'inalzamento dei limiti di assicurazione sui depositi federali e l'aggiunta di nuovi programmi di prestito abbiano stabilizzato il sistema bancario. Dal punto di vista degli investitori americani, l'ETF Spider S&P Regional Banking, col ticker KRE, è eseso di quasi il 40% nelle ultime dieci settimane, compreso il calo del 14.7% che è avuto da inizio maggio. Per la cronaca, io non ero neanche minimamente a conoscenza di un ETF che seguisse le regional bank americane. Le piccole banche regionali sembrano infatti quelle molto più impattate. L'ha detto anche Jamie Dimon, il CEO di JP Morgan, che sostiene che il governo americano dovrebbe intervenire per vietare i short sulle azioni bancarie, tra l'altro venendo seguito dopo questa dichiarazione a catena anche da diversi altri main players del settore bancario e dall'American Bankers Association che ha esortato le autorità di regolamentazione a indagare su un aumento spropositato dell'evento allo scoperto di azioni bancarie. Il settore ha diversi problemi a cui badale deve affrontare lo stress dei tassi di interesse e di un'incombente scadenza del tetto del debito fra gli altri fattori, oltre a una possibile recessione che si presume a live preve. Ma fino ad ora abbiamo parlato di Stati Uniti. E l'Italia? Qui da noi ci si aspetta un sostanzioso aumento dei crediti deteriorati nel 2023. I motivi possono essere vari, ma sicuramente il 2022 sta anche portando degli strascichi. Si tratterebbe di valori lontani dai picchi avuti una decina di anni fa, ma ci si aspetta comunque la metà di quei valori all'incirca attorno al 3.8% di media di crediti deteriorati. Si tratterebbe di un problema di lieventità seppur in aumento con impatti relativamente risori, ma è pur sempre una problematica che si aggiunge a tutto il resto. La banca più impattata da questi crediti deteriorati dovrebbe essere MPS, i Monti dei Paschi di Siena, come sempre tra l'altro. Sembra la telnovella di Beautiful con i Monti dei Paschi di Siena. In ogni caso, a parte questo trono di spade di MPS, il nostro sistema bancario sembra tenere, così pare, dove le grandi banche hanno valori molto più bassi rispetto alle attese, con Fineco che è addirittura sotto l'1%, ma anche i grandi nomi come Intesa San Paolo e Unicredit si fermano a dei valori standard molto bassi, ad esempio Intesa sta attorno all'1.3%. A questo punto ci si dovrebbe chiedere se veramente si dovrebbe investire nell'accento bancaria. Per la cronaca, prima di dover scaricare la mia posizione per noti problemi personali, ero azionista di Bank of Nova Scozia, una delle Big Five canadesi. Per cui, a mio parere, in generale, più grande è la banca e meno ci saranno possibilità, anzi, ci dovrebbero essere meno possibilità, affinché un governo faccia fallire senza muovere un dito una banca di questa portata. In Italia, penso ad esempio in Intesa San Paolo oppure Unicredit, investire in questi istituti dovrebbe abbassare di molto il rischio derivante da investirci, fermo restando che non si può sapere se si vanno a falsificare dei bilanci e per cui se anche le autorità che dovrebbero monitorare possano capirne le difficoltà. L'esta però un tema molto importante per noi investitori se volessimo investire in azioni singole. Non si compra mai un'azienda ad occhi chiusi. Se si guardano i bilanci non contraffatti ovviamente si può capire prima se la banca ha grosse difficoltà economiche e per cui se l'investimento valga veramente la pena farlo. Le banche come una qualsiasi azienda quotata. Guardate in altri settori come cos'è successo come ad esempio la storia di Tattoo Chef guidata solo dall'AIP e da investitori che investitori non erano assolutamente. Ricordandoci che questi non sono consigli a investire o a non investire ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo gradimento con un bel pollice in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona anzi un'ottima idea cominciare a fare parte di questa community con una maggiore presenza la tua iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche al prossimo video